Chiampo stava tagliando dei rami ad un albero quando per cause ancora al vaglio la scala lo ha tradito ed è caduto rovinosamente a terra. Erano circa le 9.30 e da subito è partita la richiesta di soccorso vista la sospetta lesione alla colonna vertebrale. Sul posto è arrivato l'elicottero da Padova che ha provveduto a trasportare l'uomo all'ospedale di Vicenza, il San Bortolo, dove si trova attualmente ricoverato.